Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano, raccogliere il grano. Hamemus Pacam. La metafora pontificia l'ha usata per primo Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Fumata bianca, ha detto, per la politica agricola comune, che con i suoi quasi 400 miliardi di euro sarà una voce fondamentale del bilancio dell'Unione anche per il settennato 2014-2020. Anche se dall'intesa Parlamento, Commissione e Consiglio resta fuori la spinosa questione dell'allineamento, cioè del tempo entro cui gli stati di più recente adesione avranno uniformità di trattamento, a Bruxelles i negoziatori hanno parlato di un buon accordo, che in un contesto di forte litigiosità rilancia l'Europa verde e la attrezza per le sfide dell'avvenire. Soddisfatto il rappresentante della presidenza irlandese Coveney, che ha ricevuto dal Consiglio un mandato pieno a trattare, anche da brutti clienti come Gran Bretagna e Germania. Raggiante Dajan Cholos, il commissario all'agricoltura, che vede confermati i punti qualificanti della sua strategia di riforma. Contenti di aver portato a casa risultati importanti i negoziatori del Parlamento, oltre a Paolo De Castro i popolari Michel Dantain e Giovanni Lavia e il socialista Manuel Capulas Santos. La riforma della PAC rende l'agricoltura europea più ambientalista tramite il cosiddetto greening, con incentivi al biologico e prescrizioni di rotazione delle culture, ma lo fa in modo non traumatico, posizionando l'asticella delle sanzioni al 2016. Inserisce elementi di semplificazione e trasparenza, distingue e premia gli agricoltori veri, promuove il ricambio generazionale e contrasta, per quanto può, l'abbandono delle campagne. Per l'Italia, De Castro e Lavia portano a casa risultati importanti, dall'esenzione dal greening per udiveti e agrumeti, al ritorno del grano duro fra le culture destinatari di aiuti, fino alle previsioni di valorizzazione dell'olio d'oliva. Un accordo che fa contenti tutti è ottimo o solo molto generico. In attesa di capire a quale categoria appartiene l'intesa 2013 sulla PAC, va sottolineato che il complesso e a volte indecifrabile meccanismo dei triloghi di queste lunghe e spesso estenuanti trattative a tre comincia a produrre risultati importanti anche su questioni controverse. Ci sono voluti 50 incontri e 8.000 emendamenti, ma l'Europa comincia a decidere anziché rimandare. Una buona notizia.